Belsito Hotel Le Due Turri A mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari www.belsitoteldueturri.it Sono arrivati i provvedimenti della questura di Avellino dopo i fatti accaduti prima del match contro il Verona che ha visto coinvolti i dirigenti scaligeri con la rottura del vetro anteriore dell'auto 8 sono i d'aspo di vieto di accesso alle manifestazioni sportive per i tifosi biancoverdi, tutti appartenenti alla curva sud violenza privata aggravata e danneggiamento, le ipotesi di reato non è stato identificato il singolo aggressore che ha lanciato la bottiglia di birra che ha mandato in frantumi il vetro anteriore dell'auto la mancanza di telecamere e le testimonianze raccolte non hanno portato all'individuazione del singolo elemento e così i provvedimenti hanno riguardato tutti i membri che stazionavano nei pressi dove è avvenuto l'atto teppistico quasi tutti i cosiddetti senatori della curva sud Avellino letteralmente decimata dai provvedimenti restrittivi si va fino alla pena massima di 8 anni di interdizione dalle manifestazioni sportive con tanto di obbligo di firma immediato anche l'intervento dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che vieterà ai tifosi erpini la trasferta di sabato a Cittadella è stata inoltre sospesa la licenza ad un esercizio commerciale nei pressi dove è avvenuto il fatto per non aver rispettato l'obbligo di divieto di vendita di sostanze alcoliche e bevande in bottiglie di vetro per non aver rispettato l'obbligo di vendita di sabato a Cittadella